Ciao a tutti e a tutte, giambellini e giambelline mie, come state? Innanzitutto, spero tutto bene, allora vedete la capsula del Ploietti senza la capsula di spugna perché andremo a fare dei suoni che io adoro, adoro, adoro e amo super, 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 super super soporiferi e tricherosissimi parlo un pochettino più lontano perché senza copertura si sente troppo il soffio della voce quindi non vorrei darvi troppo fastidio però iniziamo subito e ho voluto tenere lo sfondo nero il più neutro possibile e con poche lucine fisse ovviamente e diciamo anche per cambiare spero vi godiate questo video e voglio fare una piccola piccolissima premessa riguardo il video precedente cioè l'ultimo video il video della collaborazione con Snap ho detto quelle cose all'inizio soltanto per mettervi in guardia voi da contratti truffaldini e da contratti che diciamo hanno delle clausolette piccoline scritte proprio tipo quasi invisibili nei contratti quindi l'ho fatto solo ed esclusivamente per quello perché essendo il mio primo contratto e il mio primo contratto diciamo di sponsorizzazione che dovevo firmare non avevo mai firmato un contratto tramite online diciamo prima d'ora e avevo un pochettino paura se permettete quindi non era per discriminare assolutamente l'azienda Snap una volta che io mi sono rassicurata che era un'azienda validissima un'azienda italiana stabile da anni fiorentina e di ottimi prodotti biologici vegani e cruelty free io non ho più avuto e vedendo che il contratto era pulito facendolo vedere ad un avvocato non ho avuto più alcun dubbio e in alcun modo diciamo da non dover firmare ecco non ho avuto più ragioni da non dover firmare quindi ho firmato subito e spero 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 che il video vi sia piaciuto sia stato abbastanza trekkeroso rilassante e che andiate a provare i prodotti perché io sto utilizzando la crema a mani e mi trovo benissimo e anche la matita all'interno degli occhi la metto e mi trovo benissimo e il booster all'aloe vera e è fantastico lo spray diciamo tipo fixing spray che non è un fix spray è un booster quindi va anche tipo come acqua rinfrescante ecco è bellissimo bellissimo ti rinfresca il viso in un modo incredibile e potete utilizzarlo se non avete il tonico l'avete finito anche come tonico pre-makeup è freschissimo bellissimo consigliato quindi se volete andate nel video precedente in descrizione nella descrizione sotto e trovate i link affiliati per sostenere me e il mio canale fa un bel suono il maioncino comunque iniziamo con i trigger soporiferi super 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 triggerosi inizierò leggero leggero con una cosa sulle mie hands 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 i guanti 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 adoro l'hand movements e il finger fluttering con i guanti sang che maioncino a guanti avuto do 's inizialo prego con i guanti guanti ha guanti 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 se vedete questo qui più scambiato è questo pulito è più aderente perché questo è usato l'ho usato già due o tre volte per lavare i piatti questi sono quanti in nitrile e purtroppo il pacco mi è finito e mi sono dovuto arrangiare questo che è usato e questo che è pulito è un po' di più è un po' di più Grazie a tutti. Togliendo la capsula di spugna si sente ancora di più la differenza che fa questo effetto stereo sul Blue Yeti e per me è fantastico. Il Blue Yeti ha 4 capsule, non è bi capsule quindi ha un sonno spettacolare in questa modalità stereo. Relax. Relax. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passiamo al secondo oggetto super 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 triggeroso. Ora penso se lasso armi i guanti così non mi andrò a sporcare le mani oppure farlo a mani nude però penso è preferibile farlo a mani nude perché vabbè me lo lascerò per ultimo. Cosa andremo a fare? 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 Tu vorresti sentire la mia voce in modo molto ovantato Come se stessi lo sottacco Sentire la mia voce in modo Sentire la mia voce in modo molto bello Sentire la mia voce in modo Sentire la mia voce in modo Adoro questo suono, adoro La mia voce in modo 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 Togliandola 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 ricordo che ad alcuni di voi piacciono tanto i gelatini squishy sul bluiete me l'avete scritto nel commento in cui l'ho utilizzato in questo modo nel video in un commento in più commenti un po' un po' un po' Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. sono piene di schiuma per capelli, solitamente usano quella da barba e io sto usando questa per i ricci e penso sia un suono super 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 purtroppo non ho la carta alla pellicola e dovevo fare diciamo il suono della schiuma con la pellicola sopra al ployete e la schiuma sopra e purtroppo non sono venuta a casa e non ho la pellicola quindi facciamolo con la schiuma solo in mano ho provato a metterci tipo questa carta ma non andava bene stavo facendo un guaio quindi sarà per la prossima volta penso sia un suono bellissimo lo stesso ok Diciamo che l'ultimo trigger con la schiuma è durato davvero poco perché non mi piaceva Ecco non mi piaceva quindi ho preferito fare giusto un pochettino di suoni e purtroppo ripeto non ho trovato la pellicola E con la pellicola sarebbe stato wow un suono spettacolare come quello con lo slime e questo con i guanti Quindi ho deciso di darvi la mia buonanotte Buonanotte, buonanotte con i guanti, con i guanti, con il suono dei guanti E relax totale, totale, dello finger fluttering che io amo Buonanotte Good night Sweet dreams Dulce sueños Dulce sueños Buonas notti Buonanotte 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 Un big kiss Spero che questo video vi abbia rilassato e fatto compagnia Ci vediamo al prossimo video Buonanotte